Cittadini che si sentono vittima due volte, prima di ladri e rapinatori, poi di una giustizia che li ha perseguiti, in alcuni casi condannati, per essersi difesi. E per loro e assieme a loro altri cittadini sono sfilati in corteo per Padova, dalla stazione fino al tribunale, sia per manifestare solidarietà con i protagonisti di queste vicende, che contrarietà ad una giustizia nella quale non si riconoscono. Vogliono far capire che in questo paese sarebbe il caso di aiutare chi lavora, aiutare le persone che da sempre sono qui e si spaccano la schiena, che si guadagnano il pane quotidiano con il sudore della fronte. Peccato che la politica manchi sempre, peccato che la legge sulla legittima difesa sia in discussione da anni, ma nessuno fa nulla e noi continuiamo ad essere così vittime di uno Stato fallito che non fa nulla per difendere i propri cittadini. A manifestare c'è anche Walter Onichini, il macellaio di Legnaro, recentemente condannato a 4 anni e 11 mesi per aver sparato ad un ladro e i protagonisti di altre due vicende salite alla ribalta della cronaca in questi anni, che invece sono stati assolti. Graziano Stacchio, il benzinaio di Ponte di Nanto, che sparò ai rapinatori della gioielleria di Robertino Zancan e Franco Birolo, il tabaccaio di Civedi Correzzola, che sparò ad un ladro sorpreso nel suo negozio. Questo è un tema caro a tutti, anche alla nostra politica, quindi è un tema importante, la gente sente il desiderio di un cambiamento da questo punto di vista, quindi mi auguro serva anche a spronare un po' chi di dovere. Vorrei vedere se uno si trova con un familiare minacciato da 4 individui armati e mascherati che con prepotenza, con arroganza, sono padroni della tua vita perché non sai come va a finire dopo quello che è successo. Io penso e sono convinto che non starei lì a guardare.